Lazio, Tare è il rinnovo di La Frase che fa sperare. Torino mercato chiuso, in casa Lazio è tempo di affrontare il rinnovo di Milinkovic. Contratto in scadenza a giugno 2024, il club bianco celeste proverà la carta del rinnovo. Altrimenti in estate sarà addio. A Mediaset, prima del match di Coppa Italia contro la Juve. Il DS Gli Tare ha detto la sua sulla questione, è se o come stanno le cose e non c'è nessun tormentone. Si valuterà tutto al momento opportuno. Rinnovo, la cosa buona è che io non leggo mai quello che si dice. Non vado avanti con i secoli ma so come stanno le cose e vado avanti. Sono fiducioso. Molto. La partita con la Juve se ci sentiamo favoriti? Ma penso assolutamente di sì. C'è una Juve che ha bisogno di una grande reazione e questo effetto qua può essere anche un motivo per trovarci più insieme e andare oltre alle loro possibilità in questo momento. Non sarà facile, ma dobbiamo ricordarci che sarà una grande opportunità per noi stasera per un grande obiettivo della stagione. Champions. Questo è un altro obiettivo, qua si parla di Coppa Italia e per arrivare in finale dobbiamo fare una grande prestazione anche perché l'ultima partita in campionato non è andata come volevamo e stasera è una grande occasione per noi raggiungere un traguardo. Pellegrini. C'era una necessità che l'allenatore aveva espresso nei confronti di questa posizione e siamo riusciti a portare a casa un ragazzo giovane. Ma che soprattutto ama questi colori. Virgola.